Buonasera, mi fa un grandissimo piacere essere qua oggi pomeriggio con voi e di condividere la mia storia unthinkable. Prima di passare a questa storia vorrei fare un po' di propaganda per la nostra azienda, riscaldare la platea e far passare un filmato sul gruppo Campari di oggi, se possiamo far passare il filmato per cortesia. Grazie a tutti. 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 da un boconiano, nostro presidente, il 19 aprile 2007. Stavamo per andare a cena con mia moglie, io ero il chief marketing officer della Campari e avevo ignorato tutti gli squili del telefono e così via, il cellulare, la casa che dovevano uscire. Poi per scrupolo ho alzato il telefono e meno male, era nostro presidente che mi voleva vedere alle otto e mezza in ufficio. E vabbè, sono andato e mi ha fatto una proposta indecente, quella di diventare il CEO del gruppo Campari. Chiaramente in quel momento era una cosa molto, molto inaspettata. Io sono un uomo di poche aziende, avevo passato 16 anni in Procter & Gamble, sono stato sedotto da Campari, sono entrato, prima di venire a Milano stavamo a Ginevra e mi era molto piaciuto il fatto che questa sia un'azienda imprenditoriale che andava lontano. Chiaramente sono una persona ambiziosa, avevo voglia e avevo pensato che avrei avuto una chance di un giorno diventare il CEO della Campari, ma sicuramente non 18 o 19 mesi dopo essere entrato in quell'azienda. Allora, l'ha chiamato, arrivo due settimane dopo il mio quarantesimo compleanno e anche quello era un attimino un po' un shock. E c'erano vari challenge, perché poi partì mi lasciò il Presidente dicendoci devo pensare, lui mi guardò come se fossi di Marte, come fa uno a rifiutare o non dire subito di sì a una proposta di questo tipo e chiaramente dovevo affrontare il mio primo challenge che era di farne un po' la vendita a mia moglie. Perché? Perché il challenge qua era doppio. Da un lato l'avevo ingannato dicendo che saremmo andati da Ginevra a Milano, avremmo passato tre anni a Milano, poi saremmo stati per tanti anni a San Francisco. Mi dovevo annunciare che ormai Endestination era Milano. Ma la cosa più seria era, volevo assicurarmi che avrei avuto veramente tutto il supporto della famiglia, perché chiaramente quando uno diventa CEO e inizia a passare la metà del suo tempo a viaggiare, il life balance cambia. Se non c'è serenità a casa, uno non può essere un manager sereno. Mi ha dato l'ok, siamo andati avanti e il grosso challenge per me era, allora avrei dovuto affrontare e ho affrontato due settimane dopo tutto il management del gruppo per la management convention a Berlino, la prima fuori dall'Italia. Ero in azienda da 19 mesi, ero nuovo, dovevo trovare il modo di trascinare tutti i camparisti e allo stesso modo di trovare un concetto delle idee intelligente per prendere un'azienda di grandissimo successo, cercare di non distruggerla ma magari portarla a un altro livello. E quello che vorrei fare oggi è condividere con voi le chart e la presentazione che feci in quel tempo a Berlino 6 anni fa. Quando mandò le chart la prima volta in Bocconi mi disse, cambiamo un attimino il titolo e così via. Io ho voluto lasciare i chart originali perché mi appoggio su questi qua. Dunque non è perché sono pigro ma non sono incapace in PowerPoint ma per fare un punto.